Musica Nuove zone rosse e tamponi obbligatori perché arriva in Sicilia nell'ordinanza del presidente della regione. Il Green Pass, modello francese, non convince del tutto musumeci. Ipotesi di zona gialla per la Sicilia. Confcommercio Palermo, obiettivo indispensabile è raggiungere l'immunità di gregge. Certamente gli imprenditori non saranno disposti a pagare ancora il conto per tutti. Al via le ciminiere di Catania, le energie della Sicilia. La tre giorni organizzata dal governo musumeci nell'ambito delle giornate dell'energia 2021. 397esimo festino di Santa Rosalia. Il carro dedicato alla Santa verrà trasferito di fronte a Palazzo Galletti il 19 luglio. Le luminarie rimarranno accese fino al 4 settembre. Riprendono in sicurezza le visite al Museo degli Ex Voto ad Altavilla Milicia, con nuovo allestimento delle luci per valorizzare i quadretti votivi. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi giovedì 15 luglio. In apertura nuove zone rosse e tamponi obbligatori per chi arriva in Sicilia. Questo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione. Il Green Pass, modello francese, però non convince del tutto il Presidente Musumeci. Vediamo. La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti. Il modello francese non convince del tutto il Presidente della Regione nell'Omusumeci, perché contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli. Ritiene sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia ed in ciascuna Regione, estendendo il Green Pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere davvero effettivi ed efficaci. E Musumeci ha firmato un'ordinanza in cui è previsto il tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposta a livello nazionale, da Paesi extraeuropei, India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka. E ancora è prevista la stessa ordinanza a seguito delle relazioni dell'ASP che registrano un considerevole aumento dei positivi e sentiti sindaci dei comuni interessati una proroga e una nuova zona rossa. Si tratta di Mazzarino e Riesi in provincia di Caltanissetta. A Mazzarino le misure restrittive vengono prorogate fino al 21 luglio. A Riesi entrano invece in vigore domani e termineranno sempre il 21 luglio. Con Piazza Armerina diventano così tre le zone rosse in Sicilia. E sulla ventilata ipotesi di zona gialla per la Sicilia interviene Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Obiettivo indispensabile è raggiungere l'immunità di greggio. Certamente gli imprenditori non saranno disposti a pagare ancora il conto per tutti. Meglio dirlo con anticipo. Nessuno pensi a future restrizioni che ci riguardino perché gli imprenditori, quelli ancora vivi ma agonizzanti, non sono più disposti a pagare il conto per tutti. Lo abbiamo già fatto per oltre un anno e mezzo e ancora ci le chiamo le ferite. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, prende posizione sulla ventilata ipotesi di un ritorno in zona gialla. Le istituzioni proseguono e hanno il dovere di pensare con urgenza a qualsiasi soluzione per raggiungere l'immunità di greggio, accelerare la campagna di vaccinazione e intensificare i controlli contro gli assembramenti, come in particolare quelli negli aeroporti, porti e stazioni, che ci risultano essere deficitari per non parlare degli episodi di vita notturna fuori da ogni regola. Sappiamo che si sta facendo molto, ma purtroppo potrebbe non essere sufficiente. Non è accettabile questa ineluttabile area di rassegnazione di fronte agli accenni di restrizioni, anche perché il tasso di ospedalizzazione è ancora al minimo, un dato forse non adeguatamente sottolineato. Chi solo ipotizza un ritorno in zona gialla o è folle o è in mala fede e vuole trovare una scusa per nascondere interessi e bulimia di potere. Con Commercio Palermo, prosegue la Di Dio, si sta anche impegnando in una campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione per i propri associati e le migliaia di dipendenti. Noi continueremo a fare la nostra parte con senso di irresponsabilità per convincere gli indecisi, gli indolenti e gli irresponsabili ad assumere comportamenti rispettosi della collettività e del bene comune. Serve impegno e responsabilità, non possiamo solo sperare che Santa Rosalia con un nuovo miracolo ci liberi dalla peste dei nostri giorni, ma la fede non basterà se non sarà supportata da comportamenti illuminati e responsabili. Doppia operazione della Guardia di Finanza a Catania. Sequestrati 37 chili di marijuana, arrestati due uomini colti in flagrante. Doppia operazione della Guardia di Finanza a Catania. In un primo intervento i militari delle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria e della compagnia pronto impiego hanno bloccato un corriere di 43 anni che aveva in auto 13 chili di marijuana ad alto potenziale stupefacente contenuti in 11 buste sotto vuoto occultate nel vano della vettura. L'avvio delle operazioni di controllo con la richiesta dei documenti identificativi ha fin da subito determinato la reazione nervosa dell'uomo, cosa che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche. Dopo un controllo accurato, gli uomini delle fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato 37 chili di marijuana di tipo amnesia e ha arrestato il corriere. Più articolato il secondo controllo, che ha riguardato gli appartamenti nella disponibilità di un uomo di 33 anni, anche egli di Catania, sorpreso in più occasioni ad uscire in orari notturni con grossi involucri da una palazzina in centro città. Le relative attività di perquisizione hanno portato al ritrovamento di 24 chili di marijuana, anche in questo caso di tipo amnesia, e oltre 150 munizioni e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In entrambi i casi, i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto dei due responsabili, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale. La Guardia di Finanza ha scoperto a Caprileone, in provincia di Messina, un'azienda agricola che ha ottenuto illegittimamente finanziamenti comunitari per circa 100 mila euro, presentando farsi contratti di comodato d'uso di terreni con persone, in alcuni casi, già decedute da 30 anni. Un'azienda agricola con sede nel comune di Caprileone è risultata illegittima beneficiaria di finanziamenti comunitari per circa 100 mila euro. L'operazione è stata portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Patti nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi in danno al bilancio dell'Unione Europea nel delicato territorio dei Nebrudi. Secondo quanto è emerso dall'indagine ai fini dell'ottenimento di contributi a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, l'imprenditore agricolo del piccolo comune messinese dichiarava falsamente il possesso di numerosi terreni agricoli siti nel comune di Caronia. Le indagini condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Sant'Agata Minitello coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti nella persona del procuratore capo dottor Angelo Cavallo hanno consentito di smascherare la presunta truffa conseguentemente segnalando all'autorità giudiziaria il titolare dell'impresa agricola. Nel dettaglio, dopo numerosi mirati sopralluoghi, accertamenti documentali e lo sviluppo di articolata attività istruttoria consistita anche nell'escussione testimoniale dei diversi soggetti reali proprietari emergeva come i titoli di possesso dichiarati dall'indagato risultassero completamente falsi dal fittizio contratto di comodato disconosciuto dai comodanti sino all'utilizzo di contratti falsamente sottoscritti da soggetti deceduti da oltre 30 anni proprio grazie a tali falsi atti dispositivi quindi l'imprenditore induceva in errore secondo l'accusa alla GEA ente pagatore a livello nazionale delle provviste finanziarie comunitarie sulla scorta delle evidenze acquisite pertanto le fiamme gialle su disposizione del tribunale di patti e in aderenza a conforme richiesta del sostituto procuratore dottor Andrea Pollonio davano esecuzione a mirato provvedimento di sequestro preventivo per le somme indebitamente percepite per un ammontare pari ad oltre 16.000 euro il territorio di Nebrodi purtroppo non è nuovo a fenomeni della specie e le modalità illecite oggi documentate sono già assurte agli oneri della cronaca anche nazionale perché sfruttate da strutturate organizzazioni criminali anche mafiose che hanno intuito in anticipo le potenzialità dei flussi finanziari provenienti da risorse comunitarie e ora parliamo di Gabriele giovane ragazzo affetto da encefalopatia epilettica e tetaparesi spastica e in attesa di una nuova carrozzina quella attuale è diventata piccola per la sua statura la burocrazia però ne rallenta l'arrivo è la quotidiana burocrazia la vera nemica con la quale Rosario e Monica genitori di Gabriele ragazzo affetto da encefalopatia epilettica e tetaparesi spastica si confrontano giornalmente la storia è assurda quanto paradossale una carrozzina vecchia nella quale il giovane non entra più un ausilio che occorre sostituire urgentemente per migliorare le condizioni di vita del giovane ma al momento si resta in attesa di una visita domiciliare richiesta da mesi che potrà dare il via libera all'arrivo della nuova carrozzina anche una nota commovente in una storia che lascia l'amaro in bocca insieme a Gabriele Sasha e Rochi due femmine di Yorkshire che non lo perdono mai di vista e Rochi ad anticipare l'arrivo della crisi epilettica e sempre lei è pronta a confortarlo e a difenderlo durante quegli interminabili minuti io circa quattro mesi fa dopo quattro anni avere questo passeggino ho richiesto una nuova carrozzina per Gabriele purtroppo fino ad oggi neanche ho la visita neurologica per iniziare una procedura per avere la carrozzina appunto per Gabriele una carrozzina dove Gabriele non entra più Gabriele purtroppo non ci va più perché stiamo parlando di un ragazzo che fra meno di dieci giorni mi farà vent'anni è circa un metro e settanta non esagero e sta in una carrozzina di un ragazzo che aveva 15 anni allora quando me l'ha 15-16 anni quando me l'hanno data lei ha contattato l'ASP sì, io ho contattato l'ASP ho parlato con la dottoressa dicendomi che la dottoressa purtroppo non c'era quindi ho detto la domanda come mi sembra normale dirla che fa si ferma un reparto se non c'è una dottoressa mi ho detto signora noi non sappiamo dove mettere le mani di quale ASP si tratta? della guadagna l'ASP della guadagna di Palermo Gabriele avrebbe bisogno di una visita domiciliare neurologica a casa? sì, Gabriele avrebbe bisogno di una visita neurologica domiciliare perché purtroppo il bambino cioè il bambino il ragazzo non deambula io ho difficoltà come bene può vedere stiamo parlando di un ragazzo bello massiccio a metterlo in macchina quindi avevo richiesto la visita domiciliare ma purtroppo non ho avuto nessun riscontro da nessuno fino ad oggi senza visita domiciliare la ditta non le fornisce la carrozzina? no, la ditta non fornisce la carrozzina perché prima c'è la visita domiciliare neurologica poi la pratica dovrebbe essere accettata all'ASP di via Giorgio Arcoleo e poi allora si può procedere Gabriele ad avere la carrozzina a casa e il collaudo lei ha chiesto due ausili diceva poc'anzi sì, io avevo chiesto due ausili uno per esterno uno per interno però la dottoressa allora mi ha detto signora molto probabilmente gli daremo uno solamente al via alle ciminiere di Catania le energie della Sicilia la tre giorni organizzata dal governo musumeci nell'ambito delle giornate dell'energia 2021 tra i temi trattati le energie rinnovabili le isole minori come aree di test per tutta l'isola l'ecobonus l'edilizia i biocombustibili e la frontiera dell'idrogeno sentiamo la tre giorni che ci vede tutti qua alle ciminiere a Catania rappresenta un'opportunità per riflettere tutti insieme su come mobilitare l'energia della Sicilia non soltanto energia da un punto di vista tecnologico quindi non si parlerà solo di transizione energetica ma cerchiamo anche di capire come formare nuovi profili e quindi come supportare le amministrazioni locali con gli energy manager e infine come sfruttare le opportunità che a livello europeo e nazionale sono sul tavolo e quindi faccio riferimento al ruolo che possiamo svolgere nel campo dell'idrogeno un evento molto importante che assume anche una valenza simbolica poiché questo rappresenta il primo evento fieristico post-covid e quindi sancisce la graduale ripartenza dopo questa maledetta pandemia nella speranza che il covid-19 possa smettere di sortire questi effetti nefasti un evento altrettanto importante perché permette di approfondire alcune tematiche di eccezionale valenza su cui si registra una crescente sensibilità sul tema della sostenibilità ambientale sul tema anche dell'economia circolare sul tema della mobilità sostenibile dando anche l'opportunità agli operatori del settore pubblico e privati di capitalizzare le ingenti risorse regionali nazionali europee messe a disposizione su queste tematiche quindi complimenti affettuosi alla regione siciliana al presidente Gusumeci all'assessore Baglieri e tutti quelli di quali hanno reso possibile tutto ciò 397esimo festino di Santa Rosalia il carro verrà trasferito di fronte Palazzo Galletti il 19 luglio le luminari rimarranno accese fino al 4 settembre il carro trionfale di Santa Rosalia lascerà i quattro canti di Palermo il 19 luglio giorno in seguito al quale troverà la sua collocazione definitiva di fronte Palazzo Galletti in Piazza Marina la struttura restaurata di recente da 35 maestranze sotto la guida dello scenografo Fabrizio Lupo era stata costruita nel 2019 in occasione del 395esimo festino dai detenuti del Lucciardone alta 11 metri e mezzo dal peso di 9.000 chili è stata restaurata su progetto della WM Agency Group di Vincenzo Montanelli in accordo con l'amministrazione comunale vista la grande presenza di pubblico e l'attenzione che gli stessi hanno rivolto al carro e alle luminarie lungo tutto il Cassaro abbiamo condiviso con il sindaco Leuluca Orlando lo spostamento del carro a lunedì 19 luglio spiega Montanelli è un momento particolare dove gli eventi non hanno un posto e gli spettacoli non hanno spazio ma l'unica vera attrazione dei palermitani rimane il carro trionfale di Santa Rosalia siamo soddisfatti della risposta del pubblico per le tante attestazioni di stima che ci sono pervenute ed è per tale motivo che non abbiamo esitato nel prendere una decisione che ci prolunga questo momento di distensione per il sindaco di Palermo Leuluca Orlando si tratta di un'iniziativa importante che rafforza il profondo legame della città con Santa Rosalia viviamo una devozione sostenibile in linea con i tempi difficili che affrontiamo ma ugualmente profonda ricordo inoltre che le luminarie rimarranno accese fino al 4 settembre per collegare il festino alla festa di Santa Rosalia è nata Cilizia Edizioni un progetto che prevede la ristampa di testi rari della storia siciliana e palermitana la prima uscita in occasione del festino con la storia del monte di Santa Rosalia e del santuario di Giuseppe Naselli l'occasione del festino ci dà la possibilità di presentare questa nuova idea editoriale che è nata da me che sono Francesco Ciulla da Maurizio Zacco e Fabio De Gangi che sono due librai dell'antico Cassaro oggi via Vittorio Emanuele l'idea nasce del recuperare testi antichi testi che parlavano che parlano della città della sua cultura di Palermo e delle sue tradizioni essendo dei bibliofili amanti di testi antichi da collezione abbiamo riscoperto una serie di libri fra cui questo qua che è una guida del Monte Pellegrino di Giuseppe Naselli pubblicato nei primi del novecento abbiamo deciso di ristamparlo di ripubblicarlo per dare di nuovo alla città ai lettori un'occasione di leggere e rileggere le storie del Monte Pellegrino di Santa Rosalia e del suo santuario tra i tanti aneddoti raccolti nel libro ce ne racconti uno? Sì gli aneddoti sono tantissimi è quello del raccontare il festino i cinque giorni del festino il modo di festeggiare dei palermetani il modo di dare gloria a questa santa con il carro trionfale con i giochi sportivi con le attività ludiche quindi diciamo il racconto di una Palermo di un popolo di palermetani che per la santa festeggiano per cinque giorni nel miglior modo possibile sia da un punto di vista religioso sia da un punto di vista prettamente laico e profano che è quello delle gare e del cibo Rendere la Messina Social City una realtà ancora più solida è il messaggio della CISL Funzione Pubblica lanciato nel corso dell'Assemblea Unitaria del personale della società partecipata che si è tenuta nel salone delle bandiere di Palazzo Zanca a Messina Noi sentiamo l'esigenza che la Messina Social City oggi finalmente guardi al futuro diventando sempre più diciamo vicino a quella che è l'assistenza la capacità di dare risposta ai cittadini e alla cittadinanza con sempre maggiori competenze e professionalità indubbiamente la Messina Social City è stata una bellissima intuizione e noi proprio come organizzazione sindacale l'abbiamo ci siamo intestati questa battaglia già da svariato tempo però quello che c'è può essere migliorato si può arrivare ad un welfare di prossimità ad acquisire competenze che siano sempre più specifiche e sempre più prossime come dicevamo poc'anzi alle esigenze specifiche del territorio che ha molteplici complessità e degli stessi cittadini che chiaramente sono gli utenti bisognevoli di cura e di assistenza naturalmente tutto ciò comporta una programmazione seria e attenta sia di quella che è l'attività sia delle implementazioni delle dotazioni organiche attraverso procedure di stabilizzazione un piano sicuramente aziendale del fabbisogno triennale che possa essere ancora più competitivo di quello che è stato in passato che dia davvero le risposte che si attendono i cittadini e la comunità e che chiaramente sia sempre più proteso ad ottenere quelle che sono le competenze e le professionalità del settore richieste dicevamo e ribadisco l'importanza di occuparsi delle singole zone del territorio perché il territorio di Messina è sicuramente della provincia è certamente un territorio molto complesso molto problematico quindi bisogna approvincuarsi a quelle che sono le singole realtà dei territori e questo lo possiamo ottenere attraverso appunto come dicevamo una programmazione che guardi all'implementazione della dotazione organica quindi ancora più risorse umane da impegnare nei vari settori nelle varie specificità e riprendono in sicurezza le visite al museo degli ex voto di Altavilla Miglicia con nuovo allestimento delle luci per valorizzare i quadretti votivi ripartono da Altavilla le visite al museo degli ex voto in sicurezza nel rispetto delle regole anti covid e con una nuova illuminotecnica che tende a valorizzare sempre di più i quadretti votivi e a partire da giugno abbiamo avuto una serie di visitatori che non sono state di semplici pellegrini o i gruppi religiosi che arrivano il sabato e la domenica ma tantissime scolaresche locali abbiamo avuto a fine giugno nell'ambito diciamo di questi progetti che le scuole hanno portato avanti del piano scuola estate ci sono una serie di scolaresche che si trovano nel territorio e che giornalmente vengono a visitare il museo degli ex voto le visite sono gratuite sono in sicurezza basta semplicemente prenotare alla segreteria del santuario è una vacanza a studio organizzata da Heritage e stanno svolgendo attività in lingua inglese incentrate proprio sul miglioramento delle loro competenze linguistiche svolgono attività anche riguardanti la promozione del territorio ecco perché stiamo visitando abbiamo già visitato Palermo hanno visitato molti diversi musei oggi siamo proprio qui e le attività delle attività didattiche del campo riguardano anche la conoscenza e l'approfondimento del significato di questi luoghi della ricchezza culturale di questi luoghi l'esperienza in Sicilia è fantastica mi trovo realmente in questo momento in un angolo del paradiso e quindi io lo consiglio bisogna promozionare le nostre bellezze soprattutto la Sicilia io mi trovo con ragazzi per la vacanza a studio qui che vengono da Verona dell'Heritage e hanno coniato anche un bellissimo slogan come and see see sleigh l'hanno detto proprio i ragazzi veramente è bello venire a vedere la Sicilia a questi posti meravigliosi abbiamo avuto un'ottima organizzazione quindi se realmente ci troviamo bene perché dietro c'è un lavoro ben preciso di professionisti e ora cambiamo argomento una vacanza green è sostenibile in uno dei posti più tranquilli di Sicilia Avola per valorizzare il territorio e ripartire si promuove dopo il lungo periodo di fermo Avola è mare tradizione e cultura in questi anni abbiamo lavorato molto sulla valorizzazione della nostra città e lo abbiamo fatto iniziando proprio dalla risorsa straordinaria che è il mare un nostro litorale che è lungo fruibile da tutti spiagge dorate e soprattutto sicure quindi siamo pronti ad ospitare tutti i turisti e i viaggiatori che sceglieranno Avola come meta per le loro vacanze qui nella splendida perla dello Ionio potranno trovare l'ospitalità che è tipica di noi siciliani un'accoglienza calorosa che farà sentire il turista a casa e coccolato sotto tutti i punti di vista ma Avola non è solo questo Avola è arte storia e cultura il nostro centro storico caratterizzato dalla pianta esagonale è un vero e proprio salotto all'aperto della città all'interno del quale è possibile visitare i palazzi come il palazzo di città con i suoi giardini il teatro Garibaldi che fu intitolato nel 1882 all'eroe dei due mondi e che oggi è diventato un centro culturale importantissimo con una stagione teatrale sempre viva durante tutto l'anno e con tutta una serie di eventi correlati ad Avola ne abbiamo quindi per tutti i gusti noi siamo pronti e vi aspettiamo la nostra reattrezzata mette a disposizione dei turisti i servizi il nostro motto è la natura servita natura servita perché riteniamo che ci siano dei servizi essenziali di cui le persone devono necessariamente godere qui noi accogliamo le persone offrendo i tavoli offrendo i gazebo i barbecue l'uso gratuito delle canoe per poter fare un tratto del fiume risalire un tratto del fiume e quindi godere di questa meravigliosa meravigliosa natura per cui non possiamo dire altro che venite venite da noi le persone hanno voglia di uscire hanno voglia di recarsi in questi posti meravigliosi e fare passare delle meravigliose giornate così come potete voi ammirare questi giovani che sono qui presenti e ora parliamo di musica oltre 12.000 le proposte presentate al contest nazionale Sanremo Rock accede alla seconda fase del concorso la band Arroccati che si piazzano tra gli otto finalisti regionali vediamo Gli Arroccati la band siciliana capitanata dal cantante e compositore Fabrizio Laudicina sono tra gli otto finalisti regionali di Sanremo Rock il contest nazionale nato come costola del più noto festival della canzone italiana diventato oggi un brand storico il brano con cui accedono alla seconda fase della selezione lasciandosi alle spalle oltre 12.000 altre proposte si chiama Vivi ed è un'esortazione alla prudenza stradale in chiave pop a proposito del brano diciamo che una cosa che ci caratterizza è proprio il nostro suono il nostro sound perché non è qualcosa che magari si può riconoscere come può essere il rock il blues un genere già ben definito è un genere come noi lo chiamiamo Arroccato perché è l'insieme di tutti diciamo tutte le influenze che ognuno di noi ha che vanno diciamo al caso mio per il rock classico quello di Fabrizio lo swing il pop più sonorità anche degli anni 80 anni 90 la parte del tasserista del bassista e poi anche la parte di Alessio che comunque è il più giovane quindi ha delle influenze più recenti noi al momento comunque siamo impegnati perché stiamo lavorando tantissimo nella produzione di nuovi brani perché la nostra intenzione è completare un album e portare avanti la nostra musica perché ci siamo innamorati tantissimo di questa di questa situazione di questa dimensione musicale nuova che ci vede più chiusi in sala prove rispetto a al dover stare magari in giro per adesso nei locali col pubblico che è una cosa per carità che ci gasa e che amiamo tantissimo ma che diciamo rimandiamo a quando avremo l'album pronto Mauro Labita maestro di Krav Maga disciplina di autodifesa il primo siciliano ad ottenere la qualifica di National Expert per questa disciplina sentiamo l'intervista Krav Maga che è una disciplina di combattimento basata su tecniche semplici istintive ma che sono estremamente risolutive in caso di aggressioni di vario genere armato a mano nuda a sorpresa multiplo e questo è un riconoscimento dicevo che viene dopo un percorso di addestramento di tante specializzazioni e che sono fiero di portare giù in Sicilia si sta diffondendo molto rapidamente perché si è riconosciuta come realmente efficace e sono l'unico siciliano ad avere raggiunto questo traguardo non è facile perché il Krav Maga per quanto sia immediato istintivo e quindi di semplice apprendimento però conoscerlo a 360 gradi gestirlo e specializzarsi in tutti i vari microsettori che ci sono all'interno di un combattimento reale è un percorso lungo pieno di sacrifici di veramente di tanto di tanto lavoro e di grande dedizione nei confronti dei propri maestri che ringrazio quotidianamente e ora passiamo alle notizie sul calcio primi movimenti nel mercato in entrata per l'attacco del Palermo che prosegue il lavoro atletico in vista del ritiro precampionato in Campania intanto il club rosa nero nomina Antonello Perricone nuovo membro del consiglio di amministrazione vediamo per il settore offensivo della prossima stagione inizia a muoversi qualcosa anche nel mercato in entrata il Palermo ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo del classe 97 Edoardo Soleri si tratta di una punta acquisita in prestito con diritto di riscatto dal Padova nato calcisticamente nella Roma il nuovo attaccante ha già giocato nelle serie minori di altri campionati come quello spagnolo olandese o portoghese gli ultimi tornei in Italia sono stati quelli disputati con le maglie di Padova e Monopoli in serie C ha giocato 48 partite mettendo a segno 6 gol e intanto il mirino dei Rosanero è finito anche su un attaccante esperto ovvero Giuseppe Fella la trattativa la trattativa sarebbe vicina alla chiusura il centravanti nell'ultima stagione era proprio nelle fila dell'Avellino che ha eliminato i Rosanero ai playoff Fella ha concluso la propria avventura con gli Irpini ed è tornato alla casa madre che è la Salernitana nello scacchiere tattico di Giacomo Filippi potrebbe essere schierato da prima o da seconda punta novità dal punto di vista societario il Palermo ha comunicato che dopo le dimissioni di Toni di Piazza è stato nominato come nuovo consigliere di amministrazione Antonello Perricone presente negli anni nelle maggiori aziende italiane di comunicazione trasporti e produzione industriale con particolare riguardo al mondo dei media a livello nazionale ed internazionale e intanto prima della partenza per la Campania la squadra di Filippi prosegue con il lavoro atletico avviato negli ultimi giorni dopo il raduno del Barbera fra lo Stadio delle Palme il Parco della Favorita ed il campo del Tennis Club Palermo 2 Continuate a seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima edizione del Media News e vi auguro buon proseguimento d'ascolto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti